Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Cookserve Delicious 3. Ringrazio vivamente Vertigo Gaming per la key e il link lo trovate in descrizione. Iniziamo a giocare. Ok, vediamo se è saving game. Ok, perfetto. Questa è la prima volta che lo proviamo, è un early access. Perfetto. Tanta roba. Non ho la più palida idea di come si gioca. New save file. E volevo vedere innanzitutto di abbassare un pochettino. Ah, bello il menu, mi piace. Visual effect volume. Ok, volume, volume, volume. La musica la droppiamo un po'. Tasto destro del mouse. Perché è veramente alta. Ok. Advanced audio. Ah, come menu ce n'è tanto. Keyboard, gamepad, audio. Perfetto. Ah, sì. Mi sta bene. Come si fa a tornare indietro? Go back. Perfetto. Allora, start new day, update track, good catalog. Ok. Inizia un nuovo giorno. Non ho mai giocato a questo gioco. Però mi piacciono i giochi di cucina. Quindi vediamo un po' cos'è. Ci aspetta. The year is 2041, and the United States is reeling from war. But that hasn't stopped business from booming. Welcome to Tasteville recently opened its 1000th restaurant. Chili Bowl bought a small island in the Pacific. And Max Wiener's continues to be in and out of various ventures. And as for Cook Serve Delicious? Well, it continues to be regarded as the finest restaurant in the world. Until it was destroyed 20 minutes ago. Easy on the brakes, Whisk. Sorry, Cleaver. This old hunk of junk needs some love and care. Jeez. Look at this place. Do you think anyone made it? Only one way to find out. Hey, Cleaver! I think I found a survivor! Give me a hand! On my way! All right. One, two, three, lift! Holy crepe, is that the chef from Cook Serve Delicious? I'm such a big fan. Chef, I've got some good news and some bad news. Your vitals look fine. Just some minor scrapes and brain hemorrhaging. But your restaurant is... It's gone. I'm... I'm sorry. Cleaver! Um, a word with you? In private. What? What if we give chef our truck an offer to help? You could be a guardian, and I could be the driver. Well, it would be nice to work with living people for a change. All right, then. It's settled. Okay, well, I didn't like... Hey, chef! We have an idea. Cook. Delicious. 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 Serve. Delicious. Ok. Perfetto. La canzoncina è molto divertente. Delizioso. Ah, day one standard mod. Benvenuto al cook serve 10 o 3. Impariamo le fondamenti della cucina. Nel food truck, quindi nel camioncino dei panini di cibo, quelle robe lì. Ok, iniziamo. Rosso, rosso, blue. Ok, cosa devo fare? Benvenuto, chef. Prima di buttarci al primo stop, facciamo un po' di cibo in questo camion. F1. Ok, in quale stazione? Prezel. Ok, facciamo i prezel. Ok, sotto troviamo la recipe, quindi la ricetta. E quello che dobbiamo preparare, gli ingredienti. Ah, in un perfetto ordine. Ok. Posiziona gli ingredienti che ci abbiamo bisogno per la ricetta. Un attimo, eh. No, ok. Cioè, l'audio è ritornato a mille. Prezel. L'ingrediente è premiente. Ah, ok, perfetto. Classico. Perfetto. L'ordine sta... Ok, perfetto. Stiamo cucinando. Facciamone un po'. Ah, ok. Questi sono gli ordini. Va bene, prezel. Due. Perfetto. Poi due. Facciamo quelli tedeschi. Va bene. Ok. Però non so... Facciamo un po' di batch. Siamo sicuri che ne abbiamo abbastanza. Ancora ne devo fare. Facciamone ancora. Perfetto. Facciamo ancora quattro. Questi qua. Vai. Ci siamo. L'ultimo. E ci siamo. Stiamo arrivando. Ha messo la freccia. Ci siamo fermati. Ah, qua ci sono i clienti. Ok. Per servire un ordine. Clicca. E premi il numero della lista. Per preparare lo stesso. Ok. Ok. Quindi. Penso sia così. Ok. Eh, ma così. Però poi. Li facciamo ancora. Ok. Facciamo anche questo. Forse vuole gli altri. Questi qua. Vai. Perchè non riesciamo più a vendere? Perfetto combo. Non riesco a capire. Ok. Oh, ok. Ho capito. Devo fare gli altri. Questi. Questi vogliono. Ok. Perfetto. Perfetto. Questo qua lo togliamo. E facciamo. Questi. Perfetto. Allora. Vediamo se riusciamo. Perché vogliono tutti quelli tedeschi. Questo, questo, questo. Ok. Ok. Abbiamo capito bene o male com'è. Alcuni ordini sono speciali. E devono essere fatti individualmente. Invece di. Un mucchio. Di. Invece di farne tanti. Di cucinarne tanti di pretter. Penso voglia di ne quello. Selezionare quando viene preparato. Preparare un ordine. Clicca su di esso. E il numero di stessa. La session 1. Un gelato addirittura. Quindi. Abbiamo bisogno di questo. Più questo. Ok ho capito. Quindi praticamente ci sono degli ordini. Che devono essere preparati sul momento. E non devono essere preparati prima. Ok. Aspettiamo fino a quando non finisce. Quindi giù clicchiamo. Ah. Vuole la vaniglia. Poi vuole la Rocky Road. Rocky Road. E premiamo. Cos'era questo? Done? Questo voleva così? Forse ho sbagliato eh. Non lo so. Ah. Fatto. Ok. Prepariamo un po' di prezel. Prima di arrivare alla prossima stazione. Stiamo arrivando. F9. No. Ah. Devo. C'è l'audio a palla. Allora possiamo anche chiamare Whiskey Cleaver. Per aiutarci a servire. Quindi. Ah. Clicchiamo su questo simbolo qua. E premiamo Control. Per autoservire. Ok. Perfetto. Ok. Così loro. Mentre servono. Noi facciamo gli altri. Ok. Perfetto. Vogliono tutti questi. E gli diamo tutti questi. Ci siamo quasi. Ma questi però potrei già consentire. No. Aspetta perché forse. Vogliono questi. Eh. Infatti. Questo va bene. Questo. Questo. Questi. Non riesco a capire. quale vogliono dei due. Ah. Forse. Devo guardare questo disegnino qua. Forse. Penso. Ok. Stiamo finendo. Vai. Uno. Due. Tre. Quattro. Vai. Fatto. Grande. Ok. Adesso dobbiamo preparare questo. Uno. Due. Ok. Cosa vuole? Cookie Doo. No. 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 Aspetta. Cookie Doo. Cookie Doo. Cookie Doo. Dov'è? Dov'è? Cookie. Uno e due. Fatto. Poi. Questo. Questo. Vai. Questo. Questo. Via. Questo qua. Cos'è che vuole? Butter. Butter. Per due. Via. Poi. Questo cos'è? Il livello bonus? Come impazzire. Quindi. Ok. Questo qua cosa vuole? Vaniglia. 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 E impazzire. Impazzire. Sto già impazzendo. Chocolate. E Chip Don. Chocolate. E Chip Don. Chip Don. Dov'è? 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 Dov'è il Chip Don? Non so dov'è il Michi Choc. Michi Choc. Cookie. Cookie. Questo. Non lo so. Questo. Va bene. Questo qui. Cos'è che vuole? Enter. Questo. Penso voglia questo. Questo vuole vaniglia. e Rocky Draw. Vaniglia. Rocky Draw. Via. Fatto. Ok. Questo non va bene. E ci prepariamo i classici. Penso vogliono i classici. Non lo so. Sì. Classici. 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 Vai. Vai. Questo qua dovrebbe essere già pronto. HS. Non so perché questi qua non me li fa... Non me li fa prendere questi qua. Ok. E... Proviamo classici. Che ne so. E qua ci mettiamo questo. Vediamo se riusciamo. 22 rimanenti. Uno l'abbiamo perso. Questi penso siano le vite. Oh. Dai. 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 Cos'avevo fatto? Questi. Ehm... Vai. Buttiamo ancora questi. Vediamo. Sarebbe bello capire... Sì. Questo. Questo. Via. 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 G. Ok. Bisogna andare con i tasti più veloce. Via. 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 A meno che vanno a male questi di cose. Sti pretzel. Potrebbe essere. Questo. 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 Che non stanno aspettando da troppo. Via. Grande. Lui stava aspettando. Dai. Dai. Che arriva. Ce l'ho. Forse li vogliono caldi. Non lo so. Completiamo questo. Vai. Fatto. Bronzo medaglia. Ah. Bronzo medaglia. Bellissimo. Bronzo medaglia. Medaglia di bronzo. Ok. Abbiamo preso. Grazie. Allora. Vediamo un attimo. Boh. Vediamo. Beh. Abbiamo preso un po' di roba. Dai. Prima però devo fare una cosa. No. Opzioni. Audio. Gameplay. No. Gameplay music. Ah. Allora. Perché mi ha un po' distrutto le orecchie. Questo è il menu. Ok. Perfetto. Il gameplay music era veramente alto. E vediamo un attimo se abbiamo. Misura. Miglia. Kilometri. Ah. Questo è il gamepad. Questa è la tastiera. Questo è il mouse. I credits. Naturalmente. E visual setting. Ok. No. Non c'è la lingua. Ok. Perfetto. Noi siamo arrivati qua. Quindi potremmo. Stiamo qua. Sì. Tutorial. Stata chiusa. Vediamo. Proviamo. Seletta mode. Chill mode. Standard. Standard o chill stand. Proviamo la chill mode. Prima di iniziare il nuovo giorno. Necessitiamo di analizzare il menu. Selezioniamo questo. Cosa ci mettiamo. Vediamo un attimo. I donuts. I donuts sono sempre donuts. Sono sempre buoni i donuts. Vediamo un attimo. Finanza. Abbiamo fatti i prezels. Poi ci abbiamo questo qui. I nuggets. Io voglio i donuts. Poi. Questo cos'è sta roba? Non ne ho la più palida idea. Di cosa stia. Donuts. Questo. E questo. Proprio. Così. Poi mettiamo. Il pollo. Il buta kimchi. E il grillet cheese. O il grab leg. Grilled cheese. Proviamo. Questa cosa. Non ne ho la più palida idea. E incomincerò ad andare in confusione. Allora. Dopo un giorno. Ok. Va bene. Ok. Sono pronto. Via. Allora. Ci dobbiamo preparare un po' di robe. Madonna. Ma sono tanti tasti. Oh. Ci hanno chiesto un coso. Questo. Ci hanno chiesto. Aspetta. No. Come si fa a uscire? Così. Ok. Ci hanno chiesto. Cimmin. Onio. Pork. Ok. Metà strada. Ok. Ci hanno chiesto un pollo. Va bene. Questo lo consegniamo. Nel frattempo. Qui facciamo questo. Che non so cosa. Come si faccia. E qua. Gli mettiamo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Boh. Questo lo consegniamo. Butter. Questo. 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 Già abbiamo messo la freccia qua. Ci hanno chiesto anche questo. Vai. Allora. Questo lo possiamo consegnare. Perfetto. Donuts. Ce li abbiamo. Questo ce li abbiamo. Allora. Dobbiamo fare questi. Madonna mia. Sto incominciando già a impazzire. Poi facciamo anche questo. Non ce l'abbiamo. Questo lo consegniamo. Donuts ne abbiamo tre. Quindi facciamo questi. Vai. Consegniamo. Dobbiamo fare il color marrone. Il marrone. Il dotto marrone. Questo ne abbiamo uno. Nessuno ce lo chiede. Vabbè. Aspettiamo. Fatto. Grande. È macchinoso. È divertente ma è macchinoso. È divertentissimo però. Allora. Metà strada. Certo. Naturalmente sarebbe più veloce con i tasti. Della tastiera. Andiamo più veloce. Certo. 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 Vai 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 vai. Ok. Ci serve questo. Ok. Ah. Enter. Che forse è meglio. Poi questo. B. Enter. E poi ci serve questa. Via. Allora. Vediamo se abbiamo qualcosa. Questa è andata male. Quindi facciamo uno di questo. Via. Uno. Due. Tre. Vai. Ho capito. Dopo un tot vanno a male le robe. Quella è quando spuntano. Che se è la polizia? E quindi bisogna sostituirle. Ecco perché non riusciamo a venderle. C'hanno un tempo e appassiscono. E bisogna rifarle da capo. Vedi questo sta andando a male. Secondo me. Via. Infatti lo buttiamo. E lo rifacciamo. Completato. Via. Questo sta andando a male. Lo rifacciamo. Questo qua lo facciamo. Il pork. Questo lo completiamo. Questa è andata male. Lo rifacciamo. Via. Questo. Via. Questo lo consegniamo. Poi cosa abbiamo? Ok ci serve questo. Poi ci serve questo qui. Il donuts. Lo so. Ah. No. Ho sbagliato. Via. E la mousse bianca. Ok. Vai. Via. Consegniamo. Il donuts è in fase di preparazione. Vai. Serve solo il donuts. Quindi abbiamo completato. Tadam. Grande. Ok. Stai incominciando a prenderci la mano. Vediamo. Buono dai. Alla fin fine. Nessuno si è incavolato. Abbiamo servito tutti. Diciamo ci abbiamo un po' di scontentezza a generare. Però siamo arrivati al livello. Abbiamo un livello app. Abbiamo un livello app. Grande. Abbiamo fatto il livello app. Bene. Ok. Bene. Direi di finire qui il nostro gameplay di oggi. Grazie a tutti di aver seguito questa preview di questo nuovo gioco che mi sono cimentato a provare. E direi che è divertentissimo. Basta prenderci la mano e in teoria le shortcut sulla tastiera. Viene molto meglio utilizzare. Il problema è che sono tutti i tasti che non conosco e dovrei imparare a memoria. Grazie di essere stati qui con me. Spero che vi siate divertiti. Che vi avete passato quei 20 minuti di relax. E come sempre siete mitici. Alla prossima. Bye bye. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.